Ci risiamo, quello che nel tempo è diventato il salotto buono della città continua ad essere anche un luogo in cui i ragazzi si divertono, per così dire, a lasciare scritte e disegni, ma sulle mura, incuranti dell'impianto, di videosorveglianza, i vandali sono tornati a colpire, questa volta la terrazza, dove da alcuni giorni spiccano grandi scritte rosse e gialle. Ed eccolo qui, il super lavoro di chi con ignoranza non comprende né il valore storico né quello del bene comune. Ora sono al vaglio le immagini registrate dalle telecamere. Comandante, come state procedendo e quanti sono gli occhi elettronici installati nell'area? L'area è videosorvegliata e quindi abbiamo sette telecamere che sono di videosorveglianza e consentono proprio quindi di riprendere i movimenti che ci sono nella zona. Abbiamo poi una telecamera termica che questa rileva soltanto i movimenti e quindi non è utile per l'identificazione dei soggetti. E poi c'è anche una telecamera dom che questa è stata orientata sulla rotatoria e ci è molto utile per capire anche le dinamiche dei sinistri e ci è utile quindi per la sicurezza della circolazione in generale perché riprende non solo tutta la rotatoria ma anche gli attraversamenti pedonali che ci sono in zona. Le telecamere quindi di per sé sono utili come primo momento per capire i fatti che accadono nella zona. Al momento le stiamo vagliando proprio per capire chi ha effettuato gli imbrattamenti e nell'immediatezza stiamo procedendo con queste indagini perché poi la telecamera capita bene, non dà il nominativo nell'ora in cui i fatti vengono, in cui accadono. Occorre visionarle, visionarle tutte ma poi alla fine ci arriviamo ad identificare gli autori come già è successo quando c'è stato il precedente imbrattamento delle panchine e come già è successo anche con il danneggiamento del presepe. Dunque diverse le funzioni? Sì, sono diverse. Ovviamente non le guardiamo soltanto per riprendere gli imbrattamenti che avvengono nella zona ma per tutti i fatti anche di particolare rilievo e di maggiore rilievo tant'è che questi sistemi vengono utilizzati da tutte le forze di polizia anche per identificare fatti più gravi che accadono in zona. Sono uno strumento molto utile ma ripeto sono lo strumento di partenza che quindi vengono vagliate e visionate per poi da lì fare le indagini correlate successive per arrivare all'identificazione degli autori.